Ti sei mai chiesto cosa sia successo a Roberta Ragusa? Il mistero della sua scomparsa continua a scuotere le fondamenta di questa vicenda. Immagina di essere seduto al fianco di Daniele, figlio di Antonio Logli, mentre tiene tra le mani una lettera che potrebbe cambiare tutto. Pochi minuti fa, con voce tremante, ha iniziato a parlare di suo padre e le sue parole sono state scioccanti. Mio padre è... Quali parole potrebbero seguire? La confessione inaspettata di Daniele potrebbe essere la chiave per risolvere il mistero della scomparsa di Roberta Ragusa. Continua a guardare per scoprire cosa c'è dietro a queste parole. Ora entriamo nella notizia. La storia di Roberta Ragusa è un enigma che ha toccato profondamente chiunque abbia ascoltato la sua vicenda. Un puzzle di emozioni e misteri che continua a sconvolgere l'opinione pubblica. Quella notte gelida del 12 gennaio 2012, a San Giuliano Terme, il destino di questa madre premurosa e amorevole è stato sconvolto da un evento oscuro, avvolto nell'oscurità di una notte invernale. Immagina, una donna che avrebbe dato la vita per i suoi figli, svanita nel nulla senza lasciare traccia. Le domande hanno iniziato a sorgere come spettri nell'oscurità. Cosa è accaduto davvero? Chi è responsabile della scomparsa di Roberta? Il suo destino rimane incerto, intrappolato in un vortice di mistero che continua a tormentare chi cerca risposte. Ma la vera svolta in questa intricata vicenda arriva da un inaspettato protagonista. Daniele, il figlio primogenito di Antonio Logli, l'uomo al centro delle indagini sull'omicidio di Roberta. Daniele ha recentemente consegnato una lettera che potrebbe rivoluzionare ogni certezza. La sua calligrafia incerta nasconde segreti che potrebbero cambiare il corso di questa storia. Ma cosa c'è davvero in quella lettera? Cosa potrebbe rivelare sul caso? Vogliamo sapere anche la tua opinione su questo sviluppo. Lasciaci un commento qui sotto con le tue riflessioni. Immagina il peso di quel momento. Daniele, con lo sguardo perso nel vuoto, ha riaperto ferite antiche per rivelare dettagli scioccanti. I suoi ricordi, legati a quei giorni oscuri, sono come frammenti di un puzzle, che potrebbe finalmente formare un'immagine chiara di ciò che è davvero accaduto. L'evento drammatico che ha segnato la sua giovinezza sembra ora emergere, portando con sé la possibilità di una svolta nella ricerca della verità. E ora, se questa notizia ti ha catturato, non dimenticare di iscriverti al nostro canale per restare aggiornato su questa e altre storie simili. Attiva la campanella delle notifiche per essere sempre il primo a conoscere G. Lee Aggiornamenti sul caso di Roberta Ragusa. Le sue parole sono un grido di speranza e dolore, un tentativo disperato di far luce su una storia avvolta nel mistero e nell'ombra. I figli di Logli, Daniele e Alessia Ragusa, credono fermamente nell'innocenza del padre. Daniele, in particolare, ha sempre difeso il padre, sperando in una revisione del processo. Recentemente, una lettera scritta da Daniele è emersa, contenente dichiarazioni che potrebbero essere cruciali per il caso. Daniele sostiene che questa vicenda assurda lo ha segnato profondamente, soprattutto considerando che all'epoca aveva solo 15 anni ed era legato sia alla madre che al padre. La lettera di Daniele menziona un'ispezione corporale su Antonio Logli, avvenuta poco dopo la scomparsa di Roberta. Tuttavia, Daniele non ricorda dettagli significativi di quell'evento, ma spera che le sue parole siano d'aiuto per far luce su questo mistero.